Ben ritrovati amici tifosi del grande basket ragazzi eccoci qua i trovati vittoria doveva essere vittoria è stata per little basket per la nazionale di Gianmarco Pozzecco all'esordio nella mondiale all'esordio iridato nella mondiale di Giappone Filippine e Indonesia quella di Manila nel gruppo A della Coppa del Mondo l'Italia batte l'Angola 67 a 81 adesso potrà sicuramente ricaricare le pile le energie in vista di una match più provante di una test già sicuramente più importante domenica sempre a partire dalle ore 10 contro la Repubblica Domenicana delle due star NBA Carl Anthony Towns e Al Horford una test una partita sicuramente molto importante in vista anche del futuro speriamo il più lungo possibile in questa finestra iridata in questa Coppa del Mondo l'esordio che regala la prima vittoria l'esordio che sicuramente però lascia un po' di perplessità in vista anche dei prossimi impegni come detto domenica a partire dalle ore 10 contro la Repubblica Domenicana e poi soprattutto in vista anche dell'altra partita quella contro le Filippine padroni di casa martedì a partire dalle ore 14 sicuramente è un test che ancora una volta ha segnalato sia i lati positivi sia i lati negativi di questo gruppo una DNA che abbiamo iniziato a scoprire lo scorso anno nell'europeo che ci ha portato sicuramente fino a galvanizzarci tutti quanti grazie a quello successo negli ottavi di finale contro la Serbia per poi lasciarci anche la mare in bocca per quella sconfitta arrivata dopo un tempo supplementare contro la Francia ai quarti di finale l'Italia adesso sicuramente ha una grande possibilità in questa Coppa del Mondo perché ci sono tante assenze in tante nazionali e quindi comunque vanno sfruttate queste assenze e va sfruttata a proprio favore anche comunque una composizione di una roster che si conosce un roster giovane che ha la sua prima grande esperienza in una Coppa del Mondo perché tralasciando comunque l'unico inimitabile il nostro capitano all'ultima grande esperienza cestistica nella sua carriera Gigi Datome il resto del gruppo comunque è tutta la sua prima partecipazione in una Mondiale l'esordio come detto lascia qualche pleplessità lascia qualche domanda comunque che verrà sicuramente la risposta verrà stilata nelle prossime ore contro la Repubblica Dominicana di Carl Anthony Towns e di Al Horford ma soprattutto anche nelle test contro le Filippine padroni di casa termina 67 a 81 un match in cui comunque la punteggio ha visto comunque anche una vera e proprio sali e scendi l'Italia che parte con qualche problema al tiro questo problema al tiro che poi comunque va anche comunque alla lunga perché pensando un po' l'Italia ha tirato con il 5 su 31 da 3 punti con una percentuale assurda il solo 16% l'angola non fa meglio tira solamente con il 13% al tiro e da segnalare comunque un'Italia che ha avuto coraggio un'Italia che nel corso del terzo quarto ha cercato di allungare il punteggio sulla più 9 sulla 40 a 49 però la formazione di Pozzecco è stata ripresa immediatamente fino al 49 pari nel corso del terzo quarto grandi difficoltà che poi comunque ci hanno regato solamente un vantaggio di 4 lunghezze al suono della terza sirena sul 61 a 57 da lì in poi comunque si è vista la classe della nostra squadra con i 19 punti, 5 rimbalzi e 2 assist di Simone Fontecchio alla quale va comunque anche aggiunta la prestazione di Stefano Tonut 18 punti, un rimbalzo, 2 assist fondamentale l'apporto di Pippo Ricci, l'ex capitano della Virtus Bologna 12 punti, un rimbalzo, 2 assist tripla fondamentale nel corso degli ultimi 10 minuti nel corso del quarto e decisivo quarto in questo caso e poi comunque anche da segnalare le prestazioni di Niccolò Melli l'ex capitano azzurro con 7 punti, 6 rimbalzi e 2 assist 7 punti, 7 rimbalzi, 2 assist per Achille Polonara 5 punti con 3 rimbalzi e 7 assist invece per Marco Spi su 4 punti 3 rimbalzi in questo esordio nella mondiale l'ultima tappa della sua carriera per Gigi Datome 4 punti, 2 rimbalzi e 5 assist per Alessandro Paiola 3 punti, 3 rimbalzi per Severini 2 punti, un rimbalzo per Procida 2 rimbalzi invece per Spagnolo tante difficoltà per i giovani azzurri che facevano comunque anche fatica solamente a tenere la palla tra le mani e poi comunque una partita che ha visto comunque anche ha confermato comunque le noti positive sicuramente 2 su tutte Simone Fontecchio e Stefano Tonuto l'allungo decisivo è arrivato nel corso del quarto quarto con l'avvantaggio che poi si è dilatato fino al più 14 finale però all'interno comunque di questi 40 minuti in quella della Filippine Arena di Manila ce la siamo vista brutta e sicuramente un paio di volte in cui l'Italia comunque ha rischiato di essere risucchiata nel punteggio e comunque anche ha sofferto più del previsto in questo esordio irritato che comunque alla fine regala il primo successo e come detto vittoria doveva essere vittoria è stata per Little Basket di Coach ciao Marco Pozzecco la sua attenzione lasciate tantissimi like al video iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram noi ci vediamo in un prossimo video